Hai già visto dei freestyler che vanno all'indietro? Ti hanno fatto venire voglia di provare? Allora ti facciamo vedere come si fa. Scegli una pista larga, non troppo pendente e con poca gente. La prima prova all'indietro la devi eseguire come quando hai provato per la prima volta a sciare in avanti, vale a dire a spazza neve. Questo ti permette di avere più stabilità e sicurezza. Non dimenticare di guardare dove vai! Non appena ti senti a tuo agio, prova a curvare. Gira sempre tutto il corpo nella stessa direzione della testa. Con l'acquisizione di ulteriore sicurezza puoi cercare di tenere gli sci sempre più paralleli. Piccolo consiglio per sciare a sci paralleli. Con la rotazione del bacino nella stessa direzione della testa, vale a dire nella stessa direzione del tuo sguardo, si spostano gli sci e la curva si compie automaticamente.